La correzione fraterna è un atto per guarire il corpo della Chiesa. C'è un buco lì, nel tessuto della Chiesa, che bisogna ricucirlo. E come le mamme, le nonne, quando ricuccino, lo fanno con tanta delicatezza. Così si deve fare la correzione fraterna. Se tu non sei capace di farla con amore e con carità, nella verità e con umiltà, tu farai un'offessa, una distruzione al cuore di quella persona. Tu farai una chiacchiera in più, riferisce, e tu diventirei un cieco ipocrita. Come dice Gesù, ipocrita. Togli prima la trave del tuo occhio. Ipocrita. Riconosciti che tu sei più peccatore dell'altro. Ma che tu, come fratello, devi aiutare a correggere l'altro.